Sono tanti e tutti diversi i fronti sui quali la Guardia di Finanza a Gela ha lavorato in questo 2015 che si conclude oggi. Attività intense che hanno visto le fiamme gialle impegnate sia nel campo della prevenzione dei reati che in quello della repressione. Il capitano Massimo De Vito traccia un bilancio dell'anno trascorso. Diversi sono i punti cardine dell'attività della Guardia di Finanza. Anche a livello nazionale, come negli altri anni, molta attenzione è stata fatta a quella che è la tutela delle uscite, proprio perché in un periodo particolare andiamo a controllare i modi in cui vengono spesi i soldi che la collettività raccolgono per alimentare lo Stato. Così anche a Gela quest'anno noi siamo impegnati nel controllare questo settore e insieme alla tutela delle uscite siamo stati anche molto attenti alla tutela del mercato in generale e della concorrenza leale. Queste attività sono state fatte con attività quotidiane, diuturne, come potevano essere i controlli su strada, la lotta alla contraffazione e il rispetto della normativa fiscale più spicciola, come i controlli in tema di scontrino ricevute, quelli che vengono fatti quotidianamente nei negozi. Accanto a questi servizi quotidiani sono stati intrapresi anche servizi di maggiore spessore, di maggiore rilevanza, quelli che vanno a toccare settori un po' più delicati, come i famosi crimini legati ai colletti bianchi, agli appalti pubblici, ai fallimenti, che purtroppo in questo periodo sono stati molto costanti, specie nella nostra circoscrizione. Accanto ai maggiori settori di cui parlavo prima abbiamo anche tenuto a cuore la tutela dell'ambiente. Gela è una città particolare dove la tutela dell'ambiente ha una particolare valenza. Ecco che quindi tutti questi servizi fatti in tema di contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti, ma anche attività di polizia giudiziaria a vera e propria svolta nel settore, sono proprio finalizzate a restituire a Gela quello che è il suo territorio e cercare un po' di liberarlo dalla morsa dell'inquinamento. Infine è stata ovviamente rivolta l'attenzione a tutela delle entrate. È un periodo di crisi e ovviamente siamo stati attenti a non andare a intaccare situazioni già borderline, che potevano in qualche modo mettere in crisi economica società fondamentalmente serene, sane, ma che stavano attraversando un periodo di particolare difficoltà. Invece siamo andati a guardare quelle società che del crimine, dell'evasione, del non rispetto delle regole avevano fatto il loro cavallo di battaglia quotidiano. L'anno prossimo ovviamente tutte queste attività verranno ancora una volta intraprese, i punti cardine rimangono gli stessi. Speriamo di ottenere degli ottimi risultati perché la città di Gela se li merita e colgo l'occasione di questi pochi minuti per fare il mio augurio per un 2016 importante e ricco di soddisfazioni a tutti i cittadini.